E' come se io camminassi per terra e schiacciassi una formica con il piede. Non mi cambia niente. La nostra morte a me non cambia niente. Quelli dall'altra parte non sono come voi, sono delle bestie, sono delle bestie assietate di sangue e questo mese sono stati pagati per sparare mio padre, mio padre, un vecchio. Io che ho preso la pioggia, che ho preso il freddo, i geloni, senza che nessuno mi desse delle armi, che ho sempre dovuto conquistarmi con la forza. Grazie a tutti.